Noi siamo molto lieti che finalmente ci sia una mostra sul tema dei musei e che questa mostra sia a Roma perché è raggiungibile, perché è la sede del ministro, perché qui possiamo veramente avere un forum permanente con i direttori dei musei e con tutte le imprese e gli operatori che dovranno affiancare questa rivoluzione per cui i musei in questo momento di boom dovranno evolversi, accogliere le giovani generazioni, lavorare per essere in rete attraverso questa piattaforma digitale che grazie ad Agide è partita e parte insieme con lei il Sistema Nazionale dei Musei.